Io mi voglio fare qualche domanda, insomma, il mio però in questo momento c'è poco da dire perché praticamente non sono appena atterrato, perciò non sono abituato a dire tante cavolate o tanti diri di parole strane, perciò devo ridicare i materiali che ho in mano e devo pensare ai giocatori più a disposizione di vedere di salvare i salvabili. In questo momento perché la situazione è dedicata, dal lato della qualità dei giocatori che dovranno conoscere meglio, anche se parecchio riconosco, soprattutto a livello mentale, sono più notevole che ci diriamo attorno alla squadra che in questo momento è sofferente di tante situazioni e alle prime difficoltà, come me ne sono accorto ieri, diventa una problematica anche fare un passaggio di 5 metri, e questo purtroppo non lo aggiusti in 5 minuti perché io sono uno che parla chiaro, non faccio l'accompagnatore, faccio l'allenatore ma non sono neanche un malo, perciò mi ci vuole del tempo, allena in una maniera magari diversa dall'allenatore precedente, non lo so anche se lo reputo un bravo allenatore, una brava persona, non voglio entrare nemmeno di quello che è stato fino adesso, però vi dico di avere una grossa pazienza perché qui ci vuole del tempo e sono partiti sicuramente con degli obiettivi diversi a questo, cambiare obiettivi da una settimana all'altra non è facile e farlo capire ai giocatori non è semplice, soprattutto anche a chi circonda, alla gente che ci viene a vedere, ci sostiene, è venuta anche ieri a fare chilometri per vedere questa squadra, a voi che scrivete in continuazione pensavate o pensate ancora che il Forlì debba giocare per arrivare vicino a Cesena o a Matelica, i ragazzi della situazione è diversa, non lo devo mettere in testa io, non lo metterò in testa i giocatori, ma lo mettete voi, qui c'è da soffrire adesso, fino a maggio, è forte, bisogna essere pronti a soffrire, perciò se anche voi ci potete aiutare, tra virgolette, invece di attaccarmi tutti i giocatori ogni volta, invece di dargli un 5, mettergli un 6, magari mi date una mano, nell'imminente, fargli capire questi ragazzi che adesso abbiamo bisogno di noi.